Un'marcelleria è entrato da ragazzo, hanno detto che sono un borghese, hanno legato ragazzo la mano e hanno rubato il negozio, sono andati. Allora, l'hanno rubato nel negozio di macelleria? Sì, sì, sì. In via Polentino 25 c'è una marcelleria, sono entrato da persone hamburghesi, sono legato al proprietario, poi hanno rubato il negozio, hanno detto che sono hamburghesi. Sì, salve la polizia, mi dica. Sì, scusi, puoi mandare a partire gentilmente in via Polentino numero 21. Che è successo? Stanno facendo una rapina a uno dietro la casa, a un macellaio. Stanno facendo una rapina a un macellaio? Sì, sì, sono armati, sì. Sono armati di cosa? Di ferro, di ferro, c'è un ferro. Ferro dice che c'è? Ah, è certo. Quante persone sono? Sono otto, otto, otto persone. Otto persone? Sì, con le pistole e tutti, sì. Con le pistole, dici? Sì. All'interno del cortile di via Polentino numero 21. All'interno del cortile di via Polentino numero 21. Sì, sì, dentro casa sua, sono entrati dentro casa. No, ma questo è il 31, nel 21, nel 4, nel 5, nel 31. La vedi la volante? Ma a volante? La vedi la volamacchia, la polizia la vedi? Sì, sì, adesso l'ho vista la polizia. L'hai vista la polizia? Sì, sì, sono qua da... Allora, falli vedere dove sono queste persone, va bene? Sta arrivando. Allora. Allora. Allora.